L'Istat conferma le stime del 16 agosto scorso. Nel secondo trimestre del 2017 il PIL corretto per gli effetti di calendario è destagionalizzato e aumentato dello 0,4% rispetto al trimestre precedente e dell'1,5% nei confronti del secondo trimestre del 2016. Ciò vuol dire che l'Italia sta crescendo ininterrottamente da dieci trimestri consecutivi cedo ai primi tre mesi del 2015. L'aumento tendenziale del PIL nel secondo trimestre del 2017 pari all'1,5% e il più alto registrato dall'Istat da sei anni. Infatti come già rilevato con le stime di metà agosto per trovare un valore maggiore bisogna tornare al primo trimestre del 2011. La previsione ufficiale del governo ferma al DEF di aprile dove si indicava per l'anno una crescita dell'1,1% ma tutte le maggiori istituzioni e centri di ricerca hanno ritoccato a rialzo le stime del PIL di quest'anno. A parlare di crescita anche l'ultima agenzia di rating, Moody's, che per quest'anno e l'anno prossimo prevede un segno positivo del prodotto interno lordo dell'1,3% contro lo 0,8% e l'1% stimati in precedenza. A rialzare le stime anche il centro studi Confindustria e lo stesso si appresterebbe a fare il governo nella nota di aggiornamento al DEF di settembre. Da segnalare l'accelerazione maggiore del previsto dell'attività del settore manufattoriero in Italia ai massimi da febbraio 2011. Ebbene il risultato, riferisce l'agenzia Bloomberg, parrebbe superiore anche alle stime degli analisti che puntavano su un rialzo. Parole di soddisfazione, quelle che giungono dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, anche oggi arrivano buoni segnali economici. Mi auguro ci consentano di proseguire la strada per assicurare altre risorse contro la povertà e l'inclusione sociale. L'Istat segnala che nel secondo trimestre del 2017 la crescita del PIL italiano è stata determinata ad andamenti congiunturali positivi per il valore aggiunto dell'industria e dei servizi. Rialzi controbilanciati dalla diminuzione invece del valore aggiunto dell'agricoltura, meno 2,2%, e delle costruzioni, meno 0,4% a crescere. Anche gli investimenti fissi lordi buona la spinta che giungerebbe poi dal settore dei mezzi di trasporto.